E' entrato in funzione con la sua prima seduta il Consiglio Pastorale Diocesano, 48 membri nominati dall'Arcivescovo Riccardo Fontana tra religiosi, sacerdoti e laici. Collaborare con me nel servizio alla Chiesa Diocesana, cioè una rappresentanza larghissima di tutti i settori della diocesi, sarà un luogo per me di ascolto, per il laicato presente e per tutti i sacerdoti che vi sono dentro, un tempo di studio, di dibattito, di scelte, di indirizzo della vita e della diocesi. Il Consiglio Pastorale Diocesano si legge nello Statuto al compito di studiare le situazioni e i problemi della Chiesa Locale, valutare e proporre strumenti e mezzi per l'azione pastorale. La sfida è quella di sempre, quella della comunione, è quella di costruire la Chiesa insieme, portando le esperienze positive che ormai da alcuni anni ogni centro pastorale vive, ma vive in quanto condivide con le comunità ecclesiali che sono i soggetti reali di tutta la pastorale della nostra Chiesa.